più grande di questo lo vuoi più grande o più piccolo? no, lo lascio grande e fai questo più grande se no lo dobbiamo cancellare eh, va bene ti vediamo meglio eh, perché se no... la pompa mae... ti vedo due perché sei caldo Grazie. 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 Continuendo questo domande prima di dirvelo sappiate che chi è da voi invitato finirà sulla mia testa. Anche tu? Eh, non vede mentire che d'accordo però. Primo, secondo, terzo, parlate tra voi, ditemi in sicurezza. Non dare mai le spalle al pubblico? Wellà, ditemi. Primo, terzo e mezzo, abbiamo un piatto pubblico da aiuto da casa. Primo bicchiere, mi raccomando rimani immobile qualsiasi cosa io dico, d'accordo? E allora bambini, ci vediamo il bicchiere e poi, solo quando lo dirò io, toglieremo la carta e da faremo il bicchiere. E allora, uno, due, tre, oh! Mano ferma e rimani immobile! Bene, ora è il mio turno e il gioco si comprode più. Bellissimo, bellissimo, vero? No, 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 no. Vabbè, contate fino a tre insieme a me. Uno, due, tre! Bene, uno, due, tre! Sto devo al tanto, però voi che sono veramente qui, eh? Mi erano anche un po' distante, così dovessi essere qua. Va, contate! Uno, due, tre! Allora, fai un passo in avanti, cara. Togli pure la mano. Tu rimandi lì, eh? Pronti a contare? E allora! Uno, due, tre! Vado! Oh! Oh! Togli pure la mano, tu rimandi lì, eh? Non voglio essere cattiva, quindi, caro amico, facciamo così, eh? Oh! Un, due, tre! Devo sfumare più, non c'è! Prendiamo un bicchiere vuoto e vediamo se riusciamo a volare con il nostro magico di nostri clienti. Ci serve un ultimo strumento magico. Un in tutto! Caro amico, facciamo un bello strumento qui sotto. Sei pronta? Uno, due, tre! Via! La magia! Vado via se non c'è l'allegria! Se non c'è l'allegria! Agito il tuo e l'allegria! Vai, vai, vai! Agito il tuo e l'allegria! Sì, vediamo cosa va a conferire la nostra cara amica. Vediamo il proprio di una cara. Va bene, ah, un passo lento giù, si arriva a scendere di un po'. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Dividi un po', spero di finire tutto. Bellissimo, potrei partire verso il buon anno. Oh, ma ci ne è un altro, ma non lo so, non lo so, non lo so. Sì, però, se non c'è, un'allegria! E' un bellissimo, bellissimo, bellissimo. E' un giù per la nostra nuova prometta. Facciamo un applauso possibile per un canale. Questa missa fai e paghi da la panica. Questa è una bar muchasuries. Questa, questi banani è entrato così, mi tocchiamo tutti e non ci sombra. Ora, voi domandete, ma che potrebbe essere un spazzatura di nuovo? Scusate, non era un spazzatura, erano dei pezzetti, allora, che darò un po' a ciascuno di nuovo? Guardate, mi piace, prendete un mano e poi più di quello che ci vedete sul testo, attenzione, era una mappa, ma serviva la magia per aggiustarla, cara, e chi era questo pezzettino? Ocorreva una magia, o meglio, un sacco di pezzetti qui dentro, li aggiusteremo in un baleno con il vostro aiuto, grazie mille, vai vai vai, grazie, passo lì, rimanete pure seduti, uno alla volta, non preoccupatevi, altri pezzetti, li vedo là, bambini, li vedo la via, Cristina Calonochina Bambini, world�iglia! Bambini, world�iglia! Wow�ям! Diamanti, world�iglia! Liter! la macchia è fornata che mi possono comprire tesoro vai a sederti bene così riesci a vedere guardate un po' il ladro aveva forse i capelli rossi e gli occhi blu oppure non so il naso rosso oppure vediamo un po' la bocca la lingua è fuori ho un po' seduto, io sfoglierò le pagine dell'album e quando mi dirai stop fermerò di voltare le pagine d'accordo? cominciamo da dimmi stop quando vuoi stop il nostro ladro ha la bocca storta ma ho qui il naso quando mi dirai stop fermerò di voltare le pagine guarda che non ho preso bene le pagine vai stop il nostro ladro bambini attenzione non ve l'ho ancora mostrato ha il naso rosso e gli occhi fondi quando mi dirai stop smetterò di voltare le pagine d'accordo? manca un tempo in testo signori vai dimmi tu quando fermare stop bambini stiamo per svelare l'identificio del ladro riconosciamo le dita attenzione vediamo perché qui abbiamo le testimonianze di tre bambini poi dovremo controllare anche la fotografia e allora bambini questo attenzione però mani sulla ginocchia rullo dei tamburi cari signori le testimonianze combattono vediamo cosa c'è dentro vediamo eh cos'è bambini? ah è una sciarpa insomma una sciarpa tutta nera è la mia fama hai ragione però a me piacciono i colori vabbè insomma bambini in fin dei conti l'importante è il pensiero giusto? si le mie mani sulla fronte tutte e due ora senza dirlo ad alta voce pensate al vostro colore preferito è d'accordo? io recupererò in aria tutti i colori con la sciarpa e così la coloreremo d'accordo? pronti? e allora uno due e tre viva! bevete un po' è proprio vero bambini la magia non si fulpa che cade una pioggia di caramelle e ciupa ciupa così che morivano schiattate ah sono tutti bene è una bella di sedere ah no sono una miglia vale guardate il vostro attenzione perché con questa bellissima vita magica andremo griffi griffi non lo fare ma lo faremo a tempo di musica siete pronti? e allora andiamo lì con una bella musica prende a lì io ti peço la bella e allora bambini ci abbiamo di fari tutti nella semana non perdete i bambini seguite la semana non si fulpa non si fulpa mai a te che c'è che c'è Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti